Sono Gianluca Tassi, ex pilota di moto, 16 volte campione italiano di motorelli europeo. Nel 2003 ho avuto un incidente in Perù che mi ha portato a stare in carrozzina. Il sogno di tutti i rallysti è quello di partecipare alla Dakar. L'ho fatto da motociclista, vorrei rifarlo da automobilista e farlo da disabile. Abbiamo trovato dei fondi per poter iscriverci. Siamo tra i partecipanti e siamo a rappresentare i nostri colori. L'Italia è la prima volta di un italiano visabile che partecipa alla Dakar. L'Italia è la prima volta di un italiano visabile che partecipa alla Dakar. L'Italia è la prima volta di un italiano visabile che partecipa alla Dakar.